Fonte Nuova, provincia di Roma, comune con quasi 30.000 abitanti. Da diverso tempo sono chiusi tutti i giardini pubblici. A Via 2 Giugno si trova la situazione più complessa. L'ufficio preposto del comune risponde che al momento i giardini sono chiusi e che non se la sentono di riaprirli. Ma perché? La causa della chiusura sembra essere dovuta allo scarso controllo ed il conseguente vandalismo. Sono stati sottratti, riferisce l'ufficio, addirittura i giochi recentemente installati nell'area, anche se quelli di dimensioni più grandi sono presenti. L'ufficio riferisce poi di alcuni individui che si regano nei giardini per drogarsi, lasciando sul luogo delle siringhe che per i bambini non sono proprio l'ideale. Ad aggravare la situazione ci sarebbe poi una colonia di topi che dai terreni limitrofi entrano nei giardini da retro, dove è presente una rete, più volte riparata, ma sempre sistematicamente rotta dopo alcuni giorni. L'area in questione è stata acquistata dal comune di Fontenuova recentemente, ma il passaggio di proprietà non è ancora stato effettuato ed il comune ha mandato ai frati francescani, proprietari ancora per poco dell'area, diverse multe e diversi inviti ad effettuare la deratizzazione dell'area. Da parte loro i frati, oltre a non avere una gran disponibilità economica, non si spiegano come possano eliminare i topi in una zona prevalentemente di campagna. Con una semplice deratizzazione e la vedono come una scusa non capendo neppure perché debbano essere loro a provvedere, visto che l'area dei giardini sarà del comune e l'area limitrofa sarà oggetto di una riqualificazione, come promesso in campagna elettorale da entrambi gli schieramenti. La stessa situazione si ritrova però a Via delle Mimose, nei giardini che facevano parte dei lavori di arredo urbano, aperti prima dell'estate e subito richiusi. I lavori, qui comunque, sembrano ancora da finire, nonostante il termine ultimo per eseguirli sia scaduto nel febbraio del 2007. Le uniche aree verdi che rimangono a disposizione dei cittadini, se verdi possono definirsi, sono Via della Torre e Via Due Giugno, aree prevalentemente in cemento, dove gli unici alberi presenti, piantati subito dopo i lavori, cominciano a seccarsi e a morire per via della scarsissima cura che viene effettuata. Nell'attesa quindi che l'amministrazione trovi una soluzione al problema, i cittadini non hanno la possibilità di portare i propri figli in un'area verde e protetta che non stia in mezzo alla strada. Il programma della coalizione vincente dello scorso giugno recita chiaramente realizzazione strutture per bambini, definizione area chiesa bruciata e realizzazione di giardini e parchi. Per ora sono stati chiusi i giardini. Grazie a tutti e inscrizione. Grazie a tutti. Grazie per la visione!